Ciao, qui è Prasti che ti parla e benvenuto a questo ennesimo video gratuito. Questo è un video che ritengo molto importante perché, a mio avviso, se durante questa tipologia di analisi che farò oggi tu riscontri delle difficoltà oggettive, allora è probabile che ti serva almeno uno dei miei corsi. Lo dico con molta presunzione perché mi sono reso conto che quando una persona si presenta ad ascoltare o comunque a guardare un po' del materiale che ho prodotto io, mi dice sempre no, tranquillo, io sono preparato e io, allora, cerco sempre di fare delle domande per capire e mi rendo conto ogni volta che ci sono delle difficoltà veramente incredibili e che la persona neanche se ne rende conto. Quindi ho deciso di girare questo video innanzitutto per fornire a voi tutti che guardate i miei video e ovviamente vi ringrazio un ulteriore materiale per poter sviluppare dei thinking process diversi e secondariamente la mia idea è quella di dare ancora di più un contributo affinché si riesca ovviamente a comprendere qual è il proprio livello. Ora, vediamo di fare subito un'analisi. Ok, questo è uno classico spot BVB dove io apro e vengo chiamato da un big blind, big blind che so essere reg. Bene, in questa situazione io, come vedete, non sto mostrando le carte. Perché? Perché voglio effettuare un'analisi su ciò che è il mio range e non sulla specifica mano che ho. Naturalmente è chiaro che la mano che ho può incidere, faccio un esempio, se qui ho KK bloccherò diverse combinazioni di KX del mio avversario, se io qui ho asso a fiori bloccherò tutti i nut, flash draw e così via. Però quello che voglio trasmettervi oggi è l'importanza di analizzare nella globalità il vostro range, ovviamente contro determinati avversari. Quindi, andiamo subito alla conclusione. Io ho deciso di check collare. Bene, partiamo da un presupposto. Qual è il mio range e quale può essere il range del mio avversario? Quindi, quali sono l'insieme di mani che in questo spot possono giocare così? Dal mio punto di vista ci possono essere tante tipologie di KX, sicuramente mani come Qjack, sicuramente ci possono essere delle mani come Jack T, a volte anche QT, ci può essere qualche sorta di asso T, ci può essere ogni tanto qualche mano tipo Jack Jack, KK, 9-9 che vogliono giocare check call check raise, anche perché KK probabilmente non la betterei al flop, con l'intenzione ovviamente di cercollare per poi cercare di esare il turn molto spesso, posso avere dei flash draw, posso avere una serie di combinazioni. Cosa può avere lui? Partiamo da un'idea di base. Lui secondo me non ha mai KK Jack Jack, 9-9, avendo chiamato soltanto pre-flop, il suo range ovviamente è non composto da queste tipologie di combinazioni. La combinazione più forte che può avere qui lui è QT. Ovviamente sia su hitel che offe, credo che le abbia tutte. Può naturalmente avere al flop anche T8, può avere qualche doppia, sì, può averlo abbastanza spesso, e allo stesso modo però credo possa avere tranquillamente delle sorte di blef. Blef possono essere ovviamente tante tipologie, perché? Perché sanno che attaccando flop e turn, questa tipologia di board, mani come, faccio un esempio subito, K3-K4 studi, io le devo foldare. Ovviamente ho semplificato di molto il ragionamento. Prendiamo un'altra bet al turn e io decido di fare call. Ora, mettiamoci un attimino nei panni del mio avversario. Vi sentireste sempre tranquilli in questo spot? Probabilmente no, perché? Perché per quanto lui possa, ovviamente, analizzare questo spot o valutarlo, eccetera, Io non credo che in questa situazione lui possa essere certo al 100% che io non abbia a sottì. In che senso? Io lo apro sicuramente. Lui lo può flattare, lui lo può ceccare back, lui lo può tribettare ogni tanto, e quindi da questo punto di vista lui, il nut, dovrebbe averlo a livello di percezione un po' meno volti di me. Questo non è vero, ribadisco, non è vero. Però magari l'interpretazione che può avere di questo spot è che io possa avere il nut più spesso di lui. Ma ancora, siamo sicuri che in un momento di multitabling lui riesca sempre a valutare in maniera corretta quali sono le esatte combinazioni che io ho qui. Cioè, lui in questo momento ha provato a bleffare due street, ha visto che ho chiamato flop e turn. Quando scende questa carta, che cosa potrebbe fare lui? Immaginiamo la situazione in cui lui prova a valibettare una scala, e io riso. Chiaramente so bene che mediamente in questo spot io non ho molti full, a parte KK come dicevo prima, a parte raramente qualche K9 o qualche Jack9 che ho deciso per qualche motivo di ceccollare, cosa che ribadisco non farei così spesso. Ma ricordiamoci sempre che quello che farei io non è necessariamente quello che farebbero gli altri. E allora andiamo oltre. In questo spot, quando io faccio questo, quindi gioco ceccoll, ceccoll e donco sul 9. Non ho duncato sul 10, ho duncato sul 9. A livello percettivo, il mio avversario cosa potrebbe fare? Immaginiamo che in questo spot abbia scelto per qualche motivo di team value bettare KJK, abbia scelto di giocare così bleff puro, abbia scelto di giocare così il 10x. Con cosa dovrebbe mettere adesso il mio avversario? Proviamo a fare una disamina. Prova a riflettere insieme, ovviamente mentre io parlo, prova a fare le tue riflessioni, se vuoi stop anche il video, e cerca di capire in questo momento qual è la mano con la quale il mio avversario dovrebbe chiamare. Stiamo giocando a carte scoperte, cioè a carte coperte, e il mio avversario è dall'altra parte, quindi tu esattamente non sai cosa ha, come non puoi sapere cosa ho io, però fai finta di giocare al suo posto. Con cosa metti qui? Proviamo a rifletterci. Io posso mettere con tx, probabilmente non lo folderei. Il punto è perché dall'altra parte dovrei giocare, c'è col donk bet proprio sul 9. Io credo che in questa situazione il mio avversario non abbia tantissime volte valore, quindi è una linea che di per sé non ha un grandissimo senso. Quindi credo che qui a parte tx e tutto il resto, posso passare ma non ci sia tanta roba. Ora il mio avversario è affoldato, ok? E il punto cruciale di questo spot è perché affoldato? In linea di massima, quando noi andiamo a effettuare un Tinky Process di questo genere, sono abbastanza convinto che la maggior parte degli avversari molto forti possono mettersi qui, riflettere tanti e alla fine non foldare delle combinazioni molto forti. Il punto chiave è che io, vi faccio vedere, avevo sbagliato al flop. La mia idea era cibettare o ceccollato. Ovviamente una volta che ceccollo devo ceccollare anche il tunnel. Allora, una volta che ceccollo il tunnel, il mio plan qual era? Io posso rappare dei tx, posso rappare a su t, posso ovviamente avere anche delle combinazioni di kk. Io non ho alternativi, io ho 8 alta. Cioè in questo momento, se io riesco a far foldare a su 2 a fiori, io ho fatto un'ottima mano e sono molto convinto che dall'altra parte il range di 3 barrel del mio avversario non è così ampio. Di conseguenza, se non è ampio, io arrivo molto spesso ad uno showdown dove con 8 alta perdo. Quindi, analizzando alla fonte il problema, il mio ceccoll mi porta a commettere un errore. Per questo dico che in questa situazione ceccollare a su t con l'assa a fiori è molto più ragionevole, così come a su t off, di ceccollare 8 e 4. Perché mi porta a giocare e a dovermi inventare una linea particolare a river in un momento, in un contesto in cui faccio comunque veramente molta fatica, ovviamente, a comprendere cosa può realmente foldare il mio avversario. Quindi in questo spot, se avessi dovuto turnare in blef, che ne so, Qjack, ne butto una, non sono certo che questa sarebbe stata la scelta migliore. Perché? Perché non passerebbe molto di peggio. Avrebbe forse più senso check-showarla a quel punto, se proprio vogliamo rappare qualcosa. Passiamo alla mano numero 2. Questa è una mano un po' diversa, perché io faccio solo call su open da MP. Ora, potremmo disquisire tantissimo su quale sia la scelta migliore per quanto riguarda un defending range da small blind. In linea di massima, senza star qui ovviamente a fare un poema, posso dire che in questa situazione io credo che sia corretto comunque avere o un calling range o un tributting range, ma anche un range splittato. Perché? Perché comunque avendo l'opening range da MP una certa forza rispetto agli open da cutoff e da bottone, chiaramente dobbiamo trovare un modo per poter gestire i nostri range. E quindi, secondo me, soprattutto all'inizio su oppo sconosciuto, è abbastanza corretto avere un discreto e ampio flatten range. Su questo board io decido di check-collare. Ora, nel mio range ci sono sicuramente i jack-x, c'è 9-9. Ci può essere anche 10-10, ci può essere anche kq o robe di questo tipo, 8-7 suited, eccetera. Scende un 9. Il mio avversario decide di check-back. Quindi ha cibettato flop per poi check-back il turn. Ora, quando scende questo river, qual è il range del mio avversario? Iniziamo a ragionare. Ora, io ho fatto un po' capire quello che potrei rappare. La domanda è quante volte io posso avere ovviamente dei flush draw. Secondo me è un numero discreto di volte. Posso avere degli assi a cuori, non tantissimi ovviamente. Posso avere dei flush draw con l'8, dei flush draw come, fatemi pensare, kqt suited, robe di questo tipo. Quindi ovviamente flop chiamerei senza problemi. Sul raise area flop non sono estremamente convinto perché genere questi perati col jack, soprattutto in queste situazioni di difesa mp small blind, non credo sia ottimale. Poi affermo restando che si può fare tutto ovviamente a sto gioco. Quindi, andando ancora oltre, Cosa rappresento io nel momento in cui vado a bettare i river? Io credo di avere un range estremamente polarizzato. Perché posso avere dei jack x, perché posso avere 9-9, e perché, come ho già detto, posso avere anche dei missati. Il punto chiave è quanti sono effettivamente i miei missati. Ora, per far questo io voglio aprire un attimo Equilab, per dare un ulteriore aiuto, a chi ovviamente sta guardando il video, e proviamo a mettere un potenziale con gli ingranchi in questa situazione. Vediamo un po', ci ragioni insieme. Credo che qualcosa di questo tipo possa avere senso. Ma grosso modo, considerando che anche donna a donna ogni tanto si può chiamare, considerando che in un insieme di questo tipo a volte anche gli assi e k si possono chiamare, attenzione. Quindi, l'aspetto cruciale qual è se ricordiamo un attimino il board? Se ricordiamo un attimino il board, ci rendiamo conto che in questa situazione io, come missati effettivi, cioè come di mani che realmente non hanno preso questo board, ho sicuramente mani come Qt, o mani come... Questi hanno preso tutto, o mani come AssoT, AssoQ, qualche AssoK col cuori, però in realtà non sono così tante come credevamo. Cioè, se il calling range è realmente qualcosa di questo tipo, cioè ovviamente pure Kt, ma in realtà non credo che alla così largo, credo che alcune di queste potrei pure foldarle, tipo qualcosa così, a volte forse pure 9-8. Quindi in realtà il mio range è abbastanza forte. Quindi cosa succede? Io ho provato in game a giocare su questo tipo di ragionamento. Se lui non sa qual è il mio calling range, e prova a pensare che in questa situazione il board favorisca dei blef, allora questa bet lo mette nelle condizioni di blef cacciare con AssoS e KK, che sono ovviamente presenti nel suo betting range al flop e nel suo calling range al river. Quindi quello che ho fatto io, vi mostro la mano con K-Done, è una sorta di merging al river, in una situazione in cui volevo che il mio avversario ipotizzasse, in questo spot, di poter iriocallare con quelle mani. Ora, il ragionamento è giusto? Il ragionamento è sbagliato? La risposta ovviamente non è certa, perché non possiamo in alcun modo definire in maniera assoluta qual è la maniera in cui il nostro avversario pensa in questo spot e come costruisce il suo range. Però è chiaro che un punto di partenza in questa situazione lo dobbiamo avere ed è il motivo per cui ovviamente da qualche parte bisogna sempre cominciare. Mettiamo un'ultima mano. Ok, un multiway. Questo è figo perché nei multiway molto spesso si hanno delle difficoltà nella stabilire lo sviluppo di gioco. Allora, cosa posso avere io? Partiamo da me stesso. Tutto. Tutto che cosa significa? Tutte le carte, diciamo, colorate, connector, tanta roba. Ok. Io mi becco tutti i check. Che cosa può star significare tutti i check? Allora, sicuramente l'open racer, che è un rag che c'erbero, potrebbe praticamente rombettare gli assi, ma potrebbe a volte anche rombettare i mani come a so k, a so donna, a so jack. Perché? Perché in un four way non è semplicissimo prendere valore. Io metterei a so k sì, perché i due giocatori alla mia destra, uno e due, li reputo inferiore a me. Di conseguenza, sono io l'unico rompicazzo in questo spot, e allora c'è troppo valore da prendere contro due playeri. Inoltre, io avendo un range estremamente largo, su asso 6-2 in three way, più me, quindi in four way, ho molte mani con le quali posso passare. Cioè, ho un fold equity molto elevato, e lui vuole impattare sugli altri due. Quindi cosa faccio? Provo ad applicare al mio avversario un range simile a quello che utilizzerei io. Quindi, tolgo 6-6, tolgo 2-2, tolgo asso 6, tolgo asso 2, per me il grosso del suo range è asso-asso, oppure asso-t, asso-9, asso-8, asso-7, robe simili. Betto. Questa size grande cosa può stare a significare? La mia intenzione è quella di polarizzare il mio range. Dieci di cuore, cosa cambia? Nulla. Allora, partiamo da un'idea. Cosa posso far foldare io nel momento in cui faccio questa size? Probabilmente questa size non è la più bella del mondo, perché è talmente piccola che una mano come asso-x non so se passerebbe. Ora, ci sono due modi di interpretare questa size. O andiamo a pensare che in questa situazione questa size possa stare a significare che io ho una mano molto forte, quale potrebbe essere 2-2 o un 6x, che è quello ovviamente che fa polarizzare in questo caso il mio range, e quindi sto cercando ovviamente di prendere valore dagli as-x deboli, e allora gli as-x foldano. O è un modo per bleffare in questo spot dove fondamentalmente il mio avversario può pensare ah, vabbè, sta simulando una size di questo tipo, però alla fine probabilmente ce l'ha, quindi passo. Non so se è un po' contorto come ragionamento. Io partirei da un punto cruciale, ma in un four-way, dopo che la mano è andata a check-check e scende il 6, io cosa dovrei bettare? Cioè, riflettiamoci un attimo. È vero che io ho tante mani. Ora, immaginiamo che il mio betting range, finto al turn, sia che ne so, 3-4 suited, 5-4 suited, ma quante volte le betterei, e quante volte ce lo arriva rispetto a tutti i 6x del mazzo, rispetto a 2-2, eccetera, eccetera. Io credo che il mio range di base sia eccessivamente forte in questo spot quando ho bettato in un four-way. Perché alla fine, ok, folder a Cerbero, magari che a KK, faccio un esempio, ma Lillo e Greg, se li sto scherzando, Lillo e Isma, non è facile portarli al folder, non è facile neanche poi bleffare River in uno spot dove se hanno Isai non lo passano mai, cioè se hanno Topper non passano mai. Quindi in realtà, in senso globale, il mio betting range è abbastanza strong. Quindi non credo sia necessario effettuare una size molto grande. Quindi, o io vado a pensare che in questa situazione il mio avversario è bleff catch a caso, quindi non prova minimamente a comprendere qual è il mio range, allora lì sparo anche 7€ se ho value e amen, oppure, dal mio punto di vista, la size non può essere enorme. Deve essere una size di questo genere, che poi alla fine porta il mio avversario a chiamare proprio con Asso K. Quindi, in questa situazione c'è un errore nella mia percezione del range avversario, in quanto io ho detto che qui Asso K ci bettava, invece ha ceccato. Ora, quali sono i motivi che lo hanno spinto a ceccare? Magari prendere value o provare una delay dopo, però, per come la percepisco io questo spot, c'è troppo value per terra, c'è troppo margine da prendere ci bettando il flop. Di conseguenza, se c'è margine nel ci bettare il flop, quando lui mette questa mano nel checking range sa di non poter foldare. Nella sua testa è una mano troppo forte, in questa situazione, da foldare. Mi spiego meglio. Se 2-2, 6-6, Asso 2, Asso 6 devono ci bettare, cosa rimane? Asso Asso e Asso K. Sono quelle, Asso Asso, sono tre combo, Asso K è la mano successiva. Quindi, se lui in questo spot Asso K chiama il TAN, si sente obbligato a chiamare i river nella sua testa, Asso 9 lo foldo, Asso Jack borderline la posso foldare, Asso Donna, idem, ma la chiamo, Asso K è sempre call. Ma, di nuovo, è sempre call rispetto a cosa? È sempre call rispetto alla percezione che abbiamo noi del nostro range. Ma gli altri hanno la stessa percezione nostra. Tutte le volte in cui noi andiamo a definire un calling range, dobbiamo sempre chiederci, l'altro che cazzo sta pensando? Cioè, inutile gestire una difesa minima, una frequenza minima di difesa, nel momento in cui dall'altra parte il range di value dell'avversario è più spostato, è spostato nettamente sul value. In questo spot, l'idea di bluff cacciare con Asso K è corretta, ma solo nel momento in cui io posso avere dei bluff. Anche qui prendiamo Equilab per fare un'analisi un po' più dettagliata. Cosa significa tutto quello che ho detto io finora? Allora. Un attimino che forse c'è una finestra che è rimasta aperta, vediamo. Ah no, c'avevo due Equilab aperte, manco me ne ero accorto. Ok. Allora, mettiamo il board. Cominciamo dal board per far comprendere quello che voglio dire io. Ora, lasciamo stare l'equilibrio, lasciamo stare tutto, lasciamo stare la difesa minima. Noi abbiamo Asso K. Dall'altra parte io posso avere, ora oggettivamente so che sembra strano, ma in realtà io il 90% dei 6x ce li ho. Forse difendo pure 6x5 in questo spot. Forse pure 5x4, sì, vabbè, più o meno sì. Ok, 6x4 off non lo so se la difendo, sinceramente. Ok, queste ce le ho sempre. 2x2 ce le ho sempre. 3x3, 4x5, 5x5 non li betterei me out. Immaginiamo a questo punto di buttare in mezzo un paio di bluff. Facciamo 4x3, 5x4 e... Ah, tra l'altro anche 6x5. Facciamo questi due, così a caso un attimino. Ora vediamo, li aggiungiamo piano piano. L'acto del mio avversario è 20%. Io facendo questa size devo far stare il mio avversario, se non ricordo male, a 26. Ok. Quindi che cosa significa? Che in questo momento il mio avversario perde sempre. Quanti bluff dovrei avere io? Immaginiamo che mi sia inventata sta mano con G-8. Chiaramente il mio avversario dovrebbe fare call. Il punto chiave è perché io al turn ho bettato una mano come G-8. Cioè, quali sono i bluff che io vado a buttare in questo spot a questo punto? Cioè, perché io in questo spot dovrei buttare dei bluff aggiuntivi? L'unica cosa che magari lui può pensare in questo momento, visto anche la size che io vado a fare, è questa. Lui ha asso 2, cioè io, asso 2 suited, e anche asso 2 off. Ah, tra l'altro dimenticavo una cosa importante, che l'avevo messa un attimino prima, perché reputo molto fondamentale io anche asso 6 off. e magari può pensare che io asso 2 la turn in bluff. In questa situazione, ovviamente, ha il 29% dei bluff. Ma allora, un attimino, se io ho anche asso 2, se io ho anche altri bluff, perché faccio questa size? Quindi, l'unica chiave di questo spot è, a livello di frequenze, Alberto non dovrebbe bluffare mai. Per quanto lo possa essere forte, fortissimo, tutto quello che vuole, ma perché dovrei bluffare questo spot in 4-way? In un spot dove non ho possibilità di improvare. Quindi, veramente, e realisticamente, gli unici due bluff che ci sono sono quei due. 5-4 suited, 4-3 suited, io non ne vedo altri. E allora, di conseguenza, se li betto turn, lui chiama, a river cosa posso sperare di far foldare? Gli assics più bassi, vero? Ma è raro che betterei, e soprattutto è raro che betterei con quella size. Quindi, il suo call, al livello di gestione, di equilibrio, di minimum defense, e tutto quello che volete, è correttissimo. A livello pratico, è molto più vicino all'essere un call, meno e v. Proprio perché mancano, realmente, le mani di bluff, con le quali io potrei agire in questo spot. Alcune di queste combo di 6x, le potrei avere nel check racing range? No. Credo di no, perché non credo che Cerbero faccia una delay. Non credo che Lillo betti così spesso, non lo conosco. Quindi, come approccio di base, betterei sempre io. Ora, è chiaro che io ho voluto fare un'analisi un po' veloce, perché dare tutti i concetti di difesa, eccetera, in 20 minuti non è assolutamente semplice. Spero che questo video sia piaciuto, e soprattutto spero che questo video dia le indicazioni, o comunque vi possa dare quelle piccole indicazioni, per comprendere se, in questo momento, siete in grado di effettuare dei thinking process di questo genere, e se non lo siete, scrivetemi, perché avete tempo fino al 22 febbraio, fino al 22 marzo, scusate, per avere accesso ai corsi che ho creato io, che possono non migliorare, ma proprio stravolgere il vostro modo di pensare il poker, e potete avere un prezzo che è sinceramente ridicolo rispetto al valore reale che hanno. Un saluto a tutti da parte di Alberto. Grazie a tutti.